auguri di buone feste a tutti voi iniziamo ad andare a conoscere le previsioni del 2012 segno per segno vediamo effettivamente che cosa ci aspetterà se sarà un anno buono oppure un anno cattivo insomma buona fortuna e state all'ascolto leone allora avete avuto un anno un po particolare il 2011 ma parliamo di questo 2012 giove fino all'11 di giugno di questo nuovo anno sosterà nel vostro decimo campo quindi significa che ci saranno delle migliorie nel vostro settore professionale riuscirete a gettare le basi proprio per il vostro futuro riuscendo a programmare tappa dopo tappa e tutto questo inizierete a vederlo a partire subito da gennaio di questo nuovo anno dopodiché a partire dal 12 di giugno giove cambierà segno zodiacale si sposterà in quello dei gemelli e ancora una volta riuscirete ad andare avanti a perseguire il vostro obiettivo quindi quello che avete creato fino all'11 di giugno seguirà praticamente la sua definizione entro la fine dell'anno saturno invece fino al 5 di ottobre rimane nel segno della bilancia quindi nel vostro terzo campo determinando dei cambiamenti magari di auto oppure ancora determinando nuove conoscenze estremamente valide oppure facendovi firmare dei contratti notevoli sempre a livello lavorativo per quanto riguarda il saturno invece che entrerà nel segno dello scorpione a partire proprio dal 6 di ottobre avrete due anni e mezzo di analisi interiore dovrete assumervi più responsabilità inerente a voi stessi oppure inerente alla famiglia di origine qualcuno finalmente deciderà di andare a vivere da solo altri invece avranno delle piccole problematiche a livello individuale per quanto riguarda invece la parte sentimentale sarà un'annata che vi favorirà a partire da marzo attenzione perché con il giovane il segno dei gemelli e dell'undicesimo campo un'amicizia potrebbe diventare un grande grande amore e ovviamente voi che non vi accontentate cercherete una persona particolare fervescente frizzante geniale insomma una persona che non si trova tutti i giorni buon 2012 a tutti e voi